Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di 7 days to die multiplayer con Rocky Allora io continuo la mia strage di cinghiali per recuperare tutto il cibo e tutta la carne Due colpi e sei già fuori dopo Due colpi? Due colpi Mi sa che qui sei già venuto Mamma mia c'è una palma nera proprio Non c'è un cacchio di niente da mangiare Non c'è un cacchio di niente da mangiare Se no mi devo costruire adesso il fuoco Solo che non ho l'effetto Un'altra pistola tubolare Oh ma è una cosa? Un'altra pistola Speriamo che questi respawni no? E' cool Mi ti piace Eh si Oh fine Mi fitto andate a male a un brand da nuova di l'anima guardati le pietre vi prendo no le pietre le pietre si lo so lo so lo sto a prendere sto scavando sto scavando le pietre se lo so lo so lo so Trova qualcosa da mangiare, bravolo, ti farei mangiare pure il ferro Tutte queste carcasse sono tutti morti i cervi da uccidere Ma l'ho lasciata proprio fuori la moto Vai altre due miele Anche qui ci sono dei mirtilli, sì, eccoli Restava un lupo e il cinghiale, ovviamente qualcuno poteva andare il lupo, a me, non il cinghiale Eh sì, quelli si alleano tutti e due Beh, di carne diciamo che ce ne abbiamo un bel po' adesso Quindi, ora ritorno, faccio un po' di... vedo se riesco a preparare qualcuno, se lo metto nel cipicotti Vediamo un po', vediamo un po' che cosa riesco a fare Sì, c'è un altro cinghiale Oh, un altro miele, buono Meno male, stiamo trovando più miele che pillole Ehi, ciccino, ma tu ti senti un po' in... in difficoltà Oh, eh che cavolo Oh, schermo della pistola Dove ho visto una gallina? Dove è andata la gallina? Vieni Non ti faccio niente Ti voglio solo contare nei più C'è un altro cinghiale Questa strada stava imboscato, questo cinghiale che stava andando sotto all'albero, all'oscuro, diciamo all'ombra E io non l'ho visto Non lo so, mi dispiace, vedevo uscire, mi sapeva la carne Come volete, ma se ci trovano da mangiare tanto Non vi ammazzavano, no Purtroppo Mi servite, come vanno Tu vuoi vedere se c'è qualcosa da mangiare veloce, cavolo Mi servite, se c'è qualcosa, mi rendono molto più grave Muoviti, maledetto che per caricare si rallenta tutto seppure rotta ripara si deve rompere sempre quando sto attaccando cibo mamma mia santa che è un miracolo che sono le pere 10 e la zucca di pollo 10 ma vabbè dai purtroppo devo mangiare assolutamente perché sto proprio a zero 20 minuutti deve sanno qualcuno che è un belotto che palle raccolto quindi cigano turco quindi tre sceglie oh tu sti uccelli maledetti e ferma queste gallineccia di me oh cavolo ho sempre lo stesso negozio ma l'ho uccelli da lontano ma se c'era il mirino è ancora meglio e questo c'è la colletta in bagota è odioso sto giocatore il mio personaggio ma non galline non ho capito io farò la bicicletta e questo è il mio personaggio e guarda un altro gallino ho già 95 di carne. 95? Buonissimo. Io sto arrivando con un 150 più o meno quindi per mo ci possiamo accontentare delle bistecche perché ci occorrono le patate e i fugghi. Se non abbiamo le patate non possiamo fare quella specialità. Allora appena troviamo le patate le mette sotto i semi di patate che puoi piantare. Ti devo dare due libri da leggere. Mettili in una casa libri. A piacere. Ah no, te lo lascio giù. No, no. Mettili in una casa libri perché poi me li leggo tutti insieme. Ok capo. Hai fatto 25 milioni di casse, una parola per lì. E no, te li metto dove sta soldi e tesori che si vendono così tu poi che hai letto li vendi, capito? E ma tu non ti vedi che con le casse sono poche? Si sono poche. Poi vedrai. Perché boccherebbe la prima cassa di cibi pronte, la prima cassa di munizioni, devi fare l'altra. E quindi servono casse doppioni uguali. Non tante tipologie di casse. Che bella arma che ho trovato. Sì sì capo. Well, look what the castering boss. Solo per il fucile. Eh, va bene, questa per forza. Che bella arma che ho trovato. Che hai trovato? Mitragliatrici di polare. Ah, pure la mitragliatrici di polare. Ah, pure la mitragliatrici di polare. Eh, sta fatto, diciamo, un cosco al girare la vita. Lo cacciare la vita. Lo cacciare la vita. Ma che vuole questa che fa così? Mamma mia. Me lo manca su a rivelto. Ma tu stai al trader? Sì sì, sto vendendo un po' di... Vediamo se questa c'ha... Ah, scus, ma che hai tolto le... Ah, no. Ma che hai tolto qualche torte, perché non si vede un cazzo. No, non ho tolto niente. E perché si vede buio, po'? Ah... Ma che c***o che aveva un cazzo a piano. Aveva un cazzo. Allora, hai qualche lavoro? Sei un doctor. E elimina il do... Oh, questo è il migliore modo di... Sì, vado a tornare in breve. E avrò una bella rivoluzione per te. Ha problematrici. Allora, vado a mettere gli altri semi... che ci sono. Oh, e sono cresciuto finalmente. No, ancora in crescita. Mamma mia, però. Sono lente a quelle cose. Cioè, due scatolette di cibo non mi hanno riempito di niente, proprio. Oh, mamma mia. Hai appena il cus dell'aereo. Ora vado. Inizia Ok Ness'olti negli sugi, col'italieto Se poli l'éte è vantile Ok Ma lui Tanto la carne e vediamo che cosa che possiamo preparare la griglia ho pulito di carne alla griglia per forza hai un po di legna addosso e 500 e me ne servono giusto dieci così inizio a cucinare la carne vieni che poca c'ha se c'ha fame madonna è un incontentabile allora le metto 5 in un in un fuoco e 5 in un altro fuoco capito così tu quanto è vai al tuo va bene va bene principale allora metta se vi è piaciuto questa puntata ragazzi mettete un mi piace e iscrivetevi un saluto da me e roki ciao ciao